La Promobol Sanitars subisce la seconda battuta d'arresto nella gara giocata fuori case, valida per la quarta giornata del girone D del campionato di Serie C Lombardia. Le ragazze di Flero cedono per 0-3 contro la pallavolo femminile di Villanuova sul Clisi. Il match, coach Taramelli schiera il sestetto iniziale per la Promobol composto da Papa in palleggio, posta Giacomini con al centro Basalari e Tomasi, con Salvetti libero insieme a Turina e Marinoni a completare come attaccanti di posto 4. Dopo un inizio al cardiopalme ed un parziale combattutissimo viene chiesto il time-out sull'undici pari. Nonostante le indicazioni dell'allenatore, la formazione ospite subisce un break sfavorevole che porta il punteggio sul 20-14 in favore delle locali. Grazie al doppio cambio di Giulio per Giacomini e Piantoni per Pape ad una Zanetti in giornata di grazia, la Promobol si avvicina alle avversarie sino al 21-18. Il doppio cambio tuttavia non cambia le sorti del set che termina sul 25-21 per l'1-0 di Villanuova. Nel secondo set la Promobol scende in campo con il freno a mano tirato. Il risultato sembra ormai compromesso ma sul 22-9 Basalari suona la carica con le Tigri che rientrano sino al 24-18. Nonostante il notevole sforzo dell'intera squadra, il set termina 25-18 con il risultato che cambia andando sul 2-0 in favore delle padrone di casa. Al terzo set Basalari al servizio porta avanti le Tigri sino al 4-8 grazie a Treis, costringendo l'allenatore delle locali, Tiberti, a chiamare il provvidenziale time-out. Il set procede in totale equilibrio, prima sull'undici pari, poi sul 16-16 sino a due decisioni arbitrali dubbie con due attacchi delle ospiti, Zanetti e Giacomini nella fattispecie, chiamati out. Il set si chiude con lo stesso punteggio del primo 25-21 con una sconfitta netta che lascia comunque spunti positivi dai quali ripartire. La Promobol tornerà in campo il prossimo sabato 10 novembre a Maclodio alle ore 20.30 contro la Properzi Volley Lodi.